Dal 13 al 15 luglio, nelle sale dell'Opera Don Orione a Fano, si terrà una summer school sociopolitica destinata ai giovani dai 16 ai 35 anni, con una valenza di livello nazionale. Attualmente sono 35 ragazzi iscritti con un'età media di 28 anni, di cui 21 provenienti dalle marche e 14 da altre regioni. Saranno 25, invece, gli interventi di docenti universitari, esperti, scrittori, giornalisti, imprenditori e dirigenti aziendali che animeranno le tavole rotonde e i laboratori, a cui si aggiungeranno 10 rappresentanti di enti, associazioni, movimenti, istituzioni pubbliche e private che in qualità di sostenitori e collaboratori dell'iniziativa porteranno il loro contributo durante le tre giornate. I temi affrontati, invece, rientrano in quattro aree tematiche, l'economia, la formazione, il territorio e l'ambiente. Una formazione prettamente sociopolitica che deve aiutare i giovani ad avvicinarsi alla politica. Perché i giovani sono il nostro futuro e saranno la nostra futura classe dirigente. Quindi devono capire, prima di agire, quelli che sono gli aspetti fondamentali della realtà e devono interpretarli anche in modo critico, quindi quello che è la realtà economica, la realtà sociale, l'ambiente che li circonda. Con due momenti aperti a tutta la cittadinanza, in particolar modo il 13 mattina alle ore 9.30 al Cinema Masetti e il 15 alle ore 15 sempre al Cinema Masetti con la consegna degli attestati per i partecipanti e la relazione di chiusura del professor Zamagni e di altri relatori che interverranno all'incontro. Se siamo sull'orlo di una catastrofe ambientale, della terza guerra mondiale, di una grave crisi economica planetaria, ha commentato il direttore dell'ufficio pastorale per i problemi sociali e il lavoro, vuol dire che noi adulti non abbiamo le risposte a questi problemi, dobbiamo confidare nei giovani che ponendosi le domande giuste sapranno risolvere insieme ciò che noi non siamo in grado di fare. È sicuramente un'edizione virtuosa sia perché i ragazzi si potranno conoscere ma anche riconoscere in un ruolo, in un ruolo politico che non è dei suoi governanti, ma in un ruolo in cui i ragazzi potranno veramente arrivare alla catreda, dopo aver ascoltato quelli che sono i professionisti, per elaborare quelle che sono delle proposte, proposte sul settore ambientale, proposte sul settore dell'economia, proposte proprio sulla responsabilità che ognuno di noi ha nel vivere una città e in un territorio anche più diffuso, se pensiamo anche in Europa, perché l'obiettivo è proprio quello di creare anche un senso di Europa molto definito.